Salve! Salve! Buongiorno, buongiorno! Quanto tempo che non ci vediamo! Quasi un anno, eh! 1001 libri da leggere prima di morire. Ditemi un numero. Da 1 a 1001. E poi ve lo leggo. Vi faccio un video dove leggo solo numeri che mi date voi. Vabbè. Allora, l'altro giorno stavo pensando che sono molto più... non sono l'unico a pensarlo, eh, ma sono molto più interessanti i libri che uno compra e poi non legge. E quindi tiene nella sua libreria così a ricordargli un po' che il tempo è poco. Rispetto a, invece, i libri che uno compra e legge, effettivamente. Perché c'è quella piccola componente di supponenza del lettore che dice sì, sì, lo compro e poi lo leggo. Ecco, io sono uno di quelli che ne prende tanti, a volte pagandoli poco, siamo d'accordo. E quindi effettivamente uno dice, vabbè, 3 euro lo lasci lì. E così oggi voglio far vedere qualcosa di quello che negli anni ho accumulato. Allora, le categorie sono diverse. Le potrei dividere in libri trash, che compro perché sono trash. E va bene. Libri che ho intenzione di leggere, quindi che ho comprato magari anche tanto tempo fa, ma che prima o poi leggerò. E i libri che ho comprato, ma non leggerò mai, però erano belli o costavano poco. Partiamo con i libri trash. Allora, vabbè. Questo, non dico niente su questo. Forse un giorno vi posso raccontare come l'ho comprato e perché l'ho comprato. Ma ero curioso e vabbè. Soldi buttati, ma l'ho preso a un mercatino a un euro, quindi vabbè. Questo, non dico niente di questo libro. Chi sa, sa. Ecco. Poi, libri trash. Ecco, libri trash sono un po' così, la mia fissa. Tipo questi qua, sai, avete presente quelli di autori della zona, no? Questi qua sono tutti della zona, più o meno. E li compro perché mi ispirano e spero sempre che siano belli. Non ho mai trovato niente di decente. Va bene, questi era così, per farvi vedere che butto via i soldi così. Andiamo con libri che non leggerò mai, che ho comprato perché o erano una bella edizione o perché all'epoca magari mi interessava qualcosa di quell'argomento. Ho detto, sì, 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 poi dopo non me ne fregava niente. Partiamo da la biografia di Malala Yousafzai, che ho comprato, usato, ma l'ho comprato quando era stata ospite da Letterman. L'ho detto, sì, 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 la leggo. Non credo la leggerò mai, effettivamente. Poi, ci sono anche dei saggi. Questo l'ho comprato, vabbè, è, diciamo, il saggio scientifico da cui deriva il film, Apollo 13, e l'ho comprato perché è raro, ma non credo che lo leggera mai perché ho visto il film, voglio dire. Quindi, però è interessante, no? Ho comprato il libro, ma non lo leggo. Carlo Rovelli mi sta un po' sulle balle, ma costava poco questo. E quindi l'ho comprato. Si capisce tanto dei libri che ho comprato e non leggo, perché principalmente li compro perché sono economici. 8 visioni di... Questo sembra anche molto interessante. E effettivamente questo non so se magari un giorno lo leggerò, però mai dire mai. Sembra interessante dal titolo. Sempre nei saggi scientifici, la fisica della vita e come si sbriciola un biscotto sembrano molto interessanti. Ma credo rimarranno lì per sempre. Poi, che altri libri ho comprato e non leggerò mai? Ah, vabbè, c'è questo che lo lasciamo qua. Anche questo fa parte, ecco, dei libri trash. È un gioco di ruolo che su Amazon sta a 4 euro. Ed è abbastanza... adesso non si vede poco, purtroppo. Ma vi assicuro che non è un granché, però ero curioso che l'ho comprato. Vabbè, rimani lì, rimani lì. Da bravo. Questo avete presente. Questo l'ho comprato perché... Vedi, c'è la prefazione di Patricia Corwell. Perché c'è un libro di Patricia Corwell che si chiama La fabbrica dei corpi. Avete presente la storia. Questo in realtà è molto interessante. Un libro di medicina. E magari anche questo prima o poi lo leggerò. E parla di questo posto creato da questo tizio. Con che termini tecnici ve lo sto dicendo. Ok? Per intenderci queste robe qui. In un... Prato dietro casa. In un bosco dietro casa. Seppelliva cadavere per fare degli studi sul... Decomposizione eccetera eccetera eccetera. Molto interessante. La Corwell ci ha scritto un libro ambientato. Diciamo... Quindi per quello l'avevo comprato. Questo? Fisica per non fisici l'ho comprato perché costava poco. Non lo leggerò mai. Non credo proprio. Poi, libri che ho comprato... Ma... Diciamo mi sopravvalutavo. Ecco. Diciamo così. Questo. Victor Wooten, The Music Lesion. È in inglese e quindi... Cioè lo posso leggere però non c'ho voglia. Purtroppo non c'è in italiano. Altrimenti l'avrei sicuramente letto in italiano. Ma non... Mi devo impegnare troppo quindi niente da fare. Vabbè, Victor Wooten è un bassista per intenderci. Quindi un libro di musica su... Sarebbe adatto tecnicamente a tutti i musicisti. Tutti i tipi di musicisti. Se siete interessati. Poi. Allora. Alessandro Barbero, La Battaglia di Waterloo. Non credo lo leggerò più che altro perché ho sentito tutte le lezioni di Barbero sulla battaglia di Waterloo. Mi ha spoilerato tutto. Però anche questo 6 euro. Non lo compri. Non lasci lì. È stronzo. Altro libro per il quale mi sopravvalutavo. Questo è colpa di Cyberpunk 2077 e Cyberpunk Red, il gioco di ruolo. Trilogia dello Sprawl. Non so se avete presente. È un po' difficile da leggere. Potrei leggere un pezzettino. Alla fine vi leggo un pezzettino. Per farvi capire che è un po' pesantino da leggere. Poi, che cos'altro non vi ho fatto vedere? Ah. Due Rot. Joseph Rot in questo caso. Questi io non li leggerò mai. Credo. Però sono belle. Mi piacciono un sacco gli Adelphi. Allora li compro. Poi Rot mi ispira. Però è troppo per me Rot. Quindi non credo lo leggerò mai. Ma mai dire mai. Poi, cosa non vi ho fatto vedere? I numeri e le cose. Un viaggio nel calcolo infinitesimale di David Berlinski. Bello. Bellissima edizione. Pagata pochissimo. Rimarrà lì. Fa fico avercelo. Ah no. Altro ultimo. Questo. Perché questo davvero. Un euro. Uno non può lasciare lì. Una Adelphi del genere. No. Non ho la minima idea di che cosa sia. Ma l'ho comprato. Due euro. Perfetto. Quasi perfetto. Poi magari è bellissimo. Poi. Concludiamo con libri che invece credo leggerò prima o poi. Quanto meno. Questo acquisto di Natale. Questo invece mi ispira e lo leggerò al più presto. Ovviamente la biografia di Dante scritta da Alessandro Barbero. Ultimo libro. Suo. Hyperion. Forse qualcuno di voi lo conosce. Saga fantascientifica. Quando mi parte lo schizzo fantascientifico lo leggo. Insomma. Ogni tanto succede. Avete anche voi questo tipo di idee malsane. Come anche. Questa è un altro libro molto famoso che tra l'altro adesso è in edicola con la Shet. Draghi del crepuscolo d'autunno delle cronache di Dragonlance. Quindi un libro fantasy ambientato nel mondo di D&D. Di Weiss e Eichmann. Margaret Weiss e Tracy Eichmann. Questo è molto famoso. Uno dei libri fantasy probabilmente più venduti di sempre. Ambientato in Dragonlance. Quindi ambientato in D&D. Questo è quando mi voglio atteggiare a figo. Cioè questi sono i libri che metto in prima fila nella libreria per sembrare figo. Ma in realtà non ho letto. Ah e invece no. Probabilmente prossimo libro di narrativa che leggerò. Invece questo sì anche. Questo è l'altro Roth. Questo è Philip Roth. Cioè altro. Ce ne sono 10.000 di Roth che scrivono. Complotto contro l'America. Ho letto. Pastora l'americana. E quindi adesso leggerò anche questo. C'è anche una miniserie di HBO. Dice. La quarta di copertina. E niente. Questo lo leggo per forza. Bom. Credo di avervi fatto vedere tutte le cose che compro. No non è vero. Ce ne sono tanti altri che compro e non leggo. Beh. Un altro qui ad esempio. Sempre Alessandro Marbero. Carlo Magno. Questo magari lo leggerò prima o poi perché è interessante. Poi. Mark Twain. Le avventure di Tom Sawyer. È un'edizione bellissima. Ho tirato giù i libri. È venuto giù la polvere della vita. Devevo spolverare. Niente. Niente. Volevo solo dirvi questo. Insomma. Quindi fatemi sapere quali libri tenete nella vostra libreria così solo per fare i fighi. Ma tanto sapete che non li leggerete mai. E fatemi sapere se siete d'accordo sull'affermazione che ho fatto all'inizio del video. Cioè che è più importante i libri che uno compra e non legge. E quindi compra per atteggiarsi o per farsi venire l'ansia. Rispetto invece a quelli che compra e poi legge effettivamente. Io vi saluto con questo disco bellissimo anche solo per la copertina. Ci vediamo prima o poi. Grazie. 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 Pensavate mi fossi dimenticato di leggervi qualcosa di William Gibson, vero? Sì, mi ero dimenticato. Effettivamente lo sto registrando dopo. Comunque, se siete arrivati fin qui avete visto anche i titoli post-credit. Ho montato il video e mi sento un po' Roberto Mercadigna... Mercadigna... Non so come si può dire. Non lo so, mi sta venendo questa piega e non è voluto. Ma mi viene così. Normale. Allora, vi leggo. Per farvi capire un po' che non è semplice teologia dello Sprawl di William Gibson. Vi leggo proprio la prima pagina. Il cielo sopra il porto era del colore di uno schermo televisivo sintonizzato su un canale morto. Non è che mi faccio, disse qualcuno mentre Case si apriva un varco a spintoni tra la calca per infilarsi dentro il chat. O il chat, non so. Solo che all'improvviso il mio corpo ha una drastica carenza di droga. Era un accento da Sprawl in una delle espressioni più tipiche dello Sprawl. Il katsubo era un bar per espatriati di professione. Potevi andarci a bere per una settimana di seguito senza mai sentire due sole parole in giapponese. Ratz si stava occupando del bar e il suo braccio meccanico si muoveva a scatti sempre uguali mentre riempiva un vassoio di kirin alla spina. Appena vide Case, gli sorrise. I suoi denti erano un mosaico di acciaio dell'Europa orientale e di carie. Case trovò un posto al banco fra l'improbabile abbronzatura di una delle puttane di Lonely Zone e l'inamidata uniforme della marina di un africano allampanato i cui zigomi erano una successione regolare di cicatrici tribali. Warg è appena passato con due scagnozzi, l'informò Ratz, spingendo una spina lungo il banco con la mano buona. C'entri qualcosa, Case? Grazie. 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 Grazie.